Musica Tragedia sul lavoro, muore un operaio incidente in una fabbrica di Torre e le Nocelle. Il 31enne Francesco Tras di Solofra è rimasto schiacciato da un pannello di cemento. E morto sul colpo, la procura apre un'inchiesta. Miano in piazza contro i Rom continua la protesta contro il trasferimento dei nomadi provenienti dal campo di Scampia. Dopo il sit-in di ieri si organizzano nuove iniziative. Scendono in piazza anche gli altri abitanti del quartiere. Test per medicina alla carica degli 8000. Da stamane le prove per entrare nelle facoltà campane a numero chiuso. I posti sono soltanto 1031. Le emozioni e le aspettative dei giovani chiamati a rispondere alle 60 domande con 5 opzioni di risposta in 100 minuti. Il giallo di Maria indagina un bivio. Stamane nuovi rilivi dei carabinieri del Risse nel casolare di San Salvatore Telesino, dove un anno fa venne trovata senza vita la bambina romena. Effettuate anche prove audiometriche. Terrorismo, barriere per luci d'artista. A Salerno arrivano le prime misure di sicurezza. Iniziate nel pomeriggio le operazioni per posizionare New Jersey all'altezza di corso Vittorio Emanuele e sul lungomare. Corsa ai vaccini, caos negli ambulatori. Famiglie in file e centralini intasati per procedere alla profilassi dei bambini prima dell'inizio dell'anno scolastico. Situazione complicata a Napoli, ma gli disagi si registrano in tutta la regione. Buonasera a questi titoli del nostro Tg. In primo piano c'è la cronaca tragedia sul lavoro in Irpinia. Un giovane operaio di Solofra muore schiacciato da una parete di cemento. L'incidente è avvenuto in fabbrica a Torre Lenocelle. Siamo stati sul posto con Gianni Vigoroso. Sarebbe stato prima colpito in pieno, scaraventato a terra e poi schiacciato da una parete di cemento. E' morto così Francesco Trasi, 31 anni, giovane operaio di Solofra in Irpinia, a Torre Lenocelle, alla località Campoceraso, zona al confine con Venticano. Adagiato su un fianco all'ingresso di un capannone, centrato da quel pannello pesantissimo, aveva ancora il telecomando della gru tra le mani. Qualcosa non ha funzionato durante l'operazione. Un altro operaio testimone oculare dell'accaduto che era al suo fianco è riuscito a salvarsi per un soffio. Il blocco di cemento viene utilizzato per il montaggio di cabine elettriche prefabbricate. Francesco era un esperto nel suo lavoro, tra i primi alle dipendenze di questa azienda. Affranti dal dolore, i titolari dello stabilimento che sono stati ascoltati insieme al resto degli operai, dal procuratore capo di Abelino, Rosario Cantelmo, giunto sul posto personalmente insieme ai carabinieri, Ispettorato del Lavoro e ASL. Fuori dai cancelli ci sono i familiari degli altri operai, visibilmente scossi dopo l'accaduto. Dolore e rabbia. Usciva il ragazzo. Di vista. Una zona già tristemente nota, quella in questione, dove si contano negli ultimi anni almeno quattro vittime sui luoghi di lavoro. In questo preciso stando non posso che esprimere il mio cordoglio per la vittima, per i familiari. La terribile notizia ha scosso in poco tempo Solofra. Francesco era un ragazzo conosciuto da tutti in paese, un gran lavoratore che dedicava il suo tempo libero con passione e impegno al sociale, attivamente impegnato nel volontariato, passione per i motori e la locale squadra di calcio. Un tristissimo martedì di settembre che ha segnato purtroppo l'ennesima morte bianca in Campania. Una tragedia sfiorata invece ad Albanella, nel Salernitano, dove due diciottenni protagonisti di un diverbio sono passati dalle parole ai fatti. Uno dei due giovani infatti ha estratto un coltello e ha ferito il coetaneo. Un fendente sul lato destro del corpo, per fortuna non è in pericolo di vita. L'aggressore si è dato alla fuga ma è stato già individuato dai carabinieri. E continua la protesta a Miano contro il trasferimento dei nomadi provenienti dal campo Rom di Scampia. Dopo il sit-in di ieri si organizzano nuove iniziativa di lotta e nel frattempo scendono in piazza anche gli altri abitanti della zona, quelli che rivendicano una casa dal comune. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. Da un lato i residenti di Miano che si oppongono con tutte le loro forze all'arrivo dei Rom nella caserma Boscariello. Dall'altro i senza casa, sempre di Miano, che protestano perché il comune di Napoli avrebbe utilizzato fondi pubblici per sistemare i nomadi, mentre loro attendono un alloggio da anni. Nella caserma si stanno facendo i lavori per adeguare i locali con acqua calda e servizi igienici in attesa dell'arrivo di 30 famiglie di Rom provenienti dal campo incendiato di Scampia. Napoletani come noi, aveva detto il sindaco dei magistris ieri in consiglio comunale, perché stanno qui da 30 anni e i figli vanno a scuola. Ma c'è chi, nella guerra tra poveri di Miano, si è sentito discriminato e ha deciso di protestare. Non sono l'artista, quindi il problema non è i Rom nella caserma Boscariello, ma sono soldi e fondi che si sono trovati adesso per poter aiutare i Rom extracomunitari, chiunque sto sia, quando io personalmente, insieme ad altri 15 nuclei familiari, abitiamo in una scuola occupata ex Giuseppe Moscati. Ci siamo dovuti fare noi lavori da soli per ottenere la giusta di un terrazzo, perché avevamo l'acqua in casa, ci abbiamo messo due anni. Abbiamo tubature e fognature otturate con una puzza che sale, che non si può nemmeno immaginare. Topi, sporcizie ed immondizia. Allora mi chiedo, visto che si trovano fondi dappertutto, perché la caserma Boscariello ha già dei fondi stanziati per la cittadella dello sport e non so per cos'altro. Adesso si sono presi da un'altra parte fondi per poter aiutare queste 30 famiglie Rom. Io non capisco perché non si trovano mai, sono 300 persone ma sono 30 famiglie, non comprendo perché non si trovano mai fondi per aiutare i cittadini del quartiere in essere. Noi siamo cittadini del quartiere di Miano, non si trovano mai fondi per aiutarci. È stato recuperato oggi il corpo di Giulio De Nigri, il moratore di 48 anni di Benevento, scomparso domenica nelle acque di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. Il corpo è riaffiorato nei pressi di Cetaro, sempre nel Cetaro, sempre nel Cosentino. A fare il rinvenimento è stato un diportista che ha allertato i soccorsi. La Guardia Costiera ha recuperato la salma del Sannita in vacanza in Calabria. Cambiamo argomento. La carica degli 8 mila ai test di ingresso per medicina e odontoiatria. In Campania, rispetto al resto d'Italia, la competizione è più dura, perché i posti a disposizione sono soltanto 1.023. Al via le prove di ammissione ai test di ingresso per medicina e odontoiatria. Sarà per la difficoltà di entrare in graduatoio, in buona posizione, sarà per la concorrenza spietata, sarà per i pochi posti a disposizione. Alla fine entrerà solo 1 su 7, sta di fatto che tra gli studenti universitari forse nessuno, come una futura matricola delle facoltà di medicina e odontoiatria, vive la vigilia dei quiz in maniera così competitiva. Un miracolo ci aspettiamo. Le speranze sono sicuramente di entrare, o comunque di provare, si prova, poi se si riesce bene. Mi aspetto un test, diciamo, un po' più difficile dell'anno scorso, sperando che comunque le domande di logica non siano impossibili, sperando soprattutto di fare un buon mutteggio, perché da quanto ho capito bisogna fare un mutteggio abbastanza elevato, almeno sui 70, sperando di fare un'ottima prova. Ogni anno è un terno all'otto. Se i test dovessero andare male, l'alternativa è già pronta, iscriversi a un'altra facoltà, in attesa di rientrare l'anno prossimo. Comunque quasi 9 ragazzi su 10 sono pronti a fare ricorso, se dovessero accorgersi che qualcosa durante le prove non sarà stata fatta secondo le regole. Intanto domani è prevista la prova per medicina veterinaria, mentre è fissata per giovedì quella per le aspiranti matricole per i corsi di architettura. Mercoledì 13 settembre sono previsti test per le professioni sanitarie. A seguire giovedì 14 e venerdì 15 le selezioni, rispettivamente per i corsi di medicina e chirurgia in lingua inglese e per scienze della formazione primaria. Mai più isolamento delle zone interne, De Luca inaugura la Taurano-Monteforte, nodo viario fondamentale per collegare il Vallo Lauro alla Vellinese. Per l'Irpinia, dice il governatore, la regione c'è. Vino e nocciole, così il governatore De Luca ha brindato alla riapertura della Taurano-Monteforte, arteria fondamentale per collegare il Vallo Lauro e parte del Napoletano alla Vellinese. Oggi pomeriggio l'inaugurazione per un investimento significativo, un milione e mezzo di euro, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione da parte della regione e delle strade provinciali irpine. Si realizza un intervento stradale che agevola la percorrenza di un tratto che è diventato molto importante, che veniva percorso in condizioni di non sicurezza. Dobbiamo completare questo intervento fino a Monteforte, perché nell'ultimo periodo ci sono state le piogge, saltata la strada anche lì, quindi investiremo altri 400 mila euro per completare tutto l'intervento. Mi pare che sia un bellissimo asse stradale. Un segnale della rinnovata attenzione di Palazzo Santa Lucia alla provincia di Avellino e alle zone interne. Adesso andiamo ad Avellino in circa un quarto d'ora, quindi si avvicina anche per quanto riguarda i ragazzi. C'è una nuova apertura per quanto riguarda le scuole, quindi possono scegliere di più, non andando sempre nel Nolano. Questa è un'arteria fondamentale, ma già da anni. Prima si circolava, però era impraticabile. Adesso è diventata una strada a percorrenza normale. È importante come sono importanti le altre arterie che sono in corso di progettazione e per questo chiedo la collaborazione dei tanti amministratori locali su cui sono interessate questa programmazione a darsi da fare per redigere progetti quanto più esecutivi possibili. Grave incidente stradale questo pomeriggio a Benevento dove tre auto si sono scontrate lungo la tangenziale particolare nel servizio di Alessandro Fallarino. Sei persone ferite di cui una ricoverata in prognosi riservata al Rummo e tre auto distrutte. Questo è il pesante bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale Ovest nel tratto tra gli svincoli di Benevento Ferrovia e Santa Clementina alle porte del capoluogo Sannitta. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dell'ufficio infortunistica della polizia stradale, a scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Panda con a bordo una ragazza che viaggiava in compagnia di due zii, tutti di Pagoveano, e un fuoristrata DR5 condotto da un 56enne di San Leocio del Sannio che era in compagnia del figlio. Nello scontro coinvolta anche una scoda Ottavia condotta da un 65enne di Ponte Landolfo. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni della 68enne che viaggiava in compagnia del marito e la nipote. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, numerose ambulanze della Misericordia e Croce Rossa, la polizia stradale e la volante. I pompieri hanno dovuto completamente staccare le portiere della Panda per estrarre la 68enne incastrata tra le lamiere dell'utilitaria. La tangenziale Ovest è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi per circa due ore. Acqua scura, color ruggine, un odore nauseabondo e una strage di pesci nel fiume Sabato. arrivano Arpac e forestale per i rilievi tra migliaia di carcasse. La rabbia del consigliere comunale James Corcia che ha poi provveduto ad allertare le autorità. Simone Taglie e Pariel. Siamo sul corso del fiume Sabato, siamo tra i comuni di Prata Principato Ultra e quello di Arcella. L'acqua improvvisamente è diventata scura, con l'orruggine scuro, l'aria nauseabonda, ma soprattutto si è verificata una strage di pesci. Oggi purtroppo viviamo in quello che potete vedere, ci sta questa moria di pesci che sono da sabato, domenica, che dopo la pioggia abbiamo scoperto questa situazione. Oggi invece il colore è proprio un rossastro, questo si verifica quasi sempre di domenica, quindi noi dobbiamo scoprire il perché e risolvere questi problemi. Quindi noi lottiamo. Questo è uno dei tanti episodi che esprime il disastro ambientale che si sta verificando nella Valle del Sabato e non solo. È una delle espressioni di un degrado che purtroppo a cui non si riesce a porre rimedio. Urgono controlli più appropriati e soprattutto chi ha delle responsabilità si deve assumere. È il momento di farlo. Noi ci attiveremo per questo perché, come disse qualcuno, non basta, io penso che sia il momento che chi ha delle responsabilità si riassume, se no può anche andare a casa, non è necessaria la sua presenza. Il sabato è uno come il calore, è un fiume che sta morendo. Sto pensando già ad emettere un'ordinanza, se sarà necessaria, emetterla per tutelare la salute, per vedere un pochettino se c'è un modo per avvisare già la gente, se ci sono dei pericoli. A Salerno arrivano le prime barriere antiterrorismo. Iniziate nel pomeriggio le operazioni per posizionare New Jersey all'altezza di corso Vittorio Emanuele e sul lungomare. La città si prepara a luci d'artista con i provvedimenti antiattentati. Vediamo. Il tempo di annunciarle e dopo poche ore sono state installate. A Salerno sono arrivate le barriere antiattentati sul corso e sul lungomare. Dopo il via libera del sindaco in città arrivano i New Jersey sotto la supervisione della polizia municipale e con la curiosità di tanti cittadini e turisti in vista di luci d'artista Salerno prova a scongiurare l'incubo terrorismo. Naturalmente Salerno in luci d'artista diventerà un obiettivo e quindi merita una particolare attenzione a cose che noi abbiamo fatto anche negli anni passati per la verità. Ora con un motivo in più ci sono delle direttive del ministro Minniti che impongono delle norme cautelative rispetto alle quali noi ci stiamo attrezzando. Vi renderete conto che ci saranno problemi connessi? Chiudere delle strade lo si chiude al potenziale terrorista la si chiude al potenziale terrorista ma la si chiude contemporaneamente a chi deve fare carica o scarica o merci la si chiude a chi deve fare opere di soccorso la si chiude... diventa un problema rispetto al quale noi stiamo facendo delle valutazioni attente rispetto al quale daremo una risposta insieme all'assessore alla mobilità in concerto con prefettura e questura vedremo il modo per attenuare i disagi e per renderla sicuramente fare delle opere che poi siano veramente funzionali e non di facciata. Nuovo sopralluogo questa mattina nel casolare di San Salvatore Telesino dove più di un anno fa era stata rinvenuta senza vita la piccola Maria nove anni di nazionalità rumena i particolari nel servizio di Alessandro Fallarino rilievi di natura acustica svolti dall'ARPAC e dai carabinieri del RIS di Roma questa mattina a San Salvatore Telesino nel Sannio nuovo ennesimo sopralluogo di inquirenti ed investigatori nella piscina del Casale nel quale il 19 giugno del 2016 era stata rinvenuta senza vita morta annegata Maria nove anni rumena teatro di un caso ancora senza soluzione nel quale questa mattina si sono ritrovati il procuratore aggiunto Giovanni Conzo il sostituto procuratore Maria Scamarci i carabinieri del reparto operativo provinciale e i militari del RIS con i tecnici dell'ARPAC di Benevento accertamenti evidentemente non irripetibili dunque non alla presenza di Daniel 22 anni e della sorella Cristina 31 anni due rumeni per i quali a luglio e dicembre del 2016 era stato chiesto l'arresto in carcere per lui le ipotesi di reato di omicidi e violenza sessuali per la sorella di concorso nella prima ipotesi di reato in entrambe le occasioni però il GIP Flavio Cusani aveva detto no per l'insussistenza dei gravi indizi all'arresto i rilievi fonometrici effettuati questa mattina con la strumentazione dell'ARPAC sono stati svolti probabilmente per accertare l'ipotesi che nessuno avesse sentito le urla della piccola una volta spinta in acqua nuovo capitolo dunque nell'indagine per la morte della piccola Maria morti materne record in Campania 13 donne su 50 rischiano la vita ma la professoressa Triassi esperta nel settore spiega si tratta della regione col maggior numero di nati vediamo è morta forse per un'emorragia postpartum a nariccio la mamma trentenne deceduta lo scorso venerdì nell'ospedale San Paolo di Napoli dopo aver dato alla luce la sua seconda nata ma restano sullo sfondo i numeri i dati che parlano di un record negativo della Campania su circa 50 donne che muoiono ogni anno in Italia 13 sono in Campania contro i 5 della Toscana numeri che come spiega la dottoressa Maria Triassi professore ordinario di igiene della Federico II vanno comunque compensati dal fatto che in Campania nascono più bimbi attualmente è la regione che fa registrare più parti di tutti quindi facciamo una proporzione percentualmente forse un terzo di queste morti evitabili ma due terzi purtroppo sono fatalità un evento possibile ma servono strutture adeguate che concentrino ogni tipo di assistenza soprattutto in emergenza quello che c'è da migliorare nel sistema assistenziale campano alla gravidanza e al parto è la troppo scarsa presenza di strutture che concentrino sia pronto soccorso sia assistenza di alto livello quindi alla paziente alla gravida a rischio sia terapia intensiva neonatale e sia rianimazione adulti una cosa che resta è il record dei cesari con numeri sotto il 60% nella nostra regione purtroppo abbiamo ancora il record di cesari siamo un po' sotto il 60% però miglioramenti consistenti non se ne vedono firmato l'esproprio la dogana di Avellino è di proprietà del comune gli assessori Tomasone preziosi dicono ora il restauro e la riqualificazione vediamo firmato l'esproprio la dogana ora è un bene di proprietà del comune di Avellino stamattina la firma del decreto che sottrae lo storico edificio di piazza Mendola alla famiglia Sarchiola ora si aprirà la fase del restauro e della riqualificazione già dalla settimana prossima si inizieranno sia con i sondaggi geologici sia sulle prove sui materiali costituenti l'involucro della dogana questi poi saranno i dati che poi dopo si daranno al pool di progettisti che è già stato individuato da un po' di tempo noi partiremo sicuramente dal progetto preliminare che è stato approvato nel 2012 è stato approvato anche dalla soprintendenza sulla base del quale noi abbiamo avuto il riconoscimento di beni pubblico utilità quindi questo progetto sarà la base da cui noi partiremo il layout è abbastanza definito e ci sarà l'individuazione di una sala da circa 200 posti polifunzionale una caffetteria delle sale espositive poi si parlerà di gestione il comune chiarisce Tomasone non dovrà rimanere solo inquadrare per inizio del 2018 anche le risorse finanziarie in cui noi potremo procedere poi al restauro vero e proprio una struttura che possa vivere per il rilancio del centro storico quindi essere aperta tutti i giorni avere un uso che possa in qualche modo richiamare anche dei discorsi di eccellenza per il territorio irpino e che non possa soprattutto un aspetto di sostenibilità economica nel senso che non dovrà gravare esclusivamente completamente sulle spalle del comune ed è caos negli ambulatori dell'aslo per la corsa ai vaccini famiglie in fila centralini tasati per procedere alla profilasse di bambini prima dell'inizio dell'anno scolastico situazione complicata specialmente a Napoli ma disagi si registrano un po' in tutta la regione vediamo come era facilmente prevedibile è scattata la corsa last minute ai vaccini migliaia di famiglie in coda negli uffici dell'aslo per prenotare o procedere alla vaccinazione come è noto infatti un recente decreto del governo ha imposto l'obbligo dell'antidoto appena la mancata iscrizione in classe dei bambini complice anche una campagna informativa non proprio efficiente tantissime famiglie si sono trovate a fare i conti con l'incertezza centralini scolastici intasati di telefonate file negli ambulatori e corsa dai pediatri per capire il da farsi a Napoli la situazione più caotica anche qualche momento di tensione ma la macchina sanitaria pare reggere l'urto secondo le stime del servizio sanitario regionale sono 90.000 i bambini e i ragazzini da sottoporre a profilassi ad 8 channel parla il pediatra salernitano Aurelio Occhinegro componente della commissione regionale vaccini sta creando qualche problema perché oltretutto il decreto è andato in vigore nel momento in cui si era quasi tutti in vacanza ma adesso che si è tornati al lavoro sia le scuole sia le asli dei centri vaccinali nonché i pediatri stanno diciamo cominciando ad affrontare questi primi problemi c'è ancora un po' di confusione sui ruoli in particolare perché le scuole tendono a delegare ai medici i medici dicono no dovete essere voi genitori a fare l'autocentificazione però io penso che con un po' di buona volontà da parte di tutti quanti ci sarà sicuramente la possibilità di mettere in regola i bambini prima dell'inizio dell'anno scolastico da un lato l'omaggio del presidente del senato Pietro Grasso ad un sindaco campione di illegalità dall'altro il durissimo atto d'accusa del fratello che parla di sogno svenduto nel settimo anniversario della morte di Angelo Vassallo Pollica ricorda il sindaco pescatore una ferita difficile da rimarginare e un delitto ancora senza risposta nel settimo anniversario della morte di Angelo Vassallo si moltiplicano i messaggi di cordoglio per il sindaco pescatore ucciso mentre rincasava con le indagini prorogate fino a fine anno ma della mano che l'ha ammazzato ancora non se ne conosce l'identità il suo esempio continua a vivere nei sindaci che ogni giorno lavorano nell'interesse delle loro città e che sono minacciati dalla criminalità con queste parole il presidente del senato Pietro Grasso ha voluto omaggiare la figura di Angelo Vassallo lo ha fatto dalla propria pagina facebook in un post nel quale ha ricordato l'impegno della fascia tricolore cilentana per coltivare a fare rumore ad Acciaroli però nel giorno dell'anniversario e la lettera aperta che il fratello di Vassallo Dario presidente della fondazione intitolata dal primo cittadino ha scritto rivolgendosi idealmente al familiare ucciso oggi stenteresti a riconoscere Pollica e Acciaroli diventati luoghi artificiali troppo cemento puzza di fritture soldi alcol e droga la fanno da padroni il duro atto d'accusa di Aldo Vassallo che punta poi il dito sulla crisi sociale che attanaglia il Cilento dove in sette anni ci sono stati 46 suicidi a chi senza pietà la classe politica locale e regionale parole al vetriolo per l'attuale sindaco Stefano Pisani per il neo capo della segreteria del governatore De Luca Franco Alfieri con un terrificante anatema finale il tuo sogno conclude il fratello di Vassallo è stato venduto per un piatto di lenticchie ti do un consiglio non tornare ti ucciderebbero un'altra volta piste ciclabili e mobilità sostenibile a Benevento si accende lo scontro in consiglio comunale servizio di Maria Teresa De Lucia consiglio comunale ha dir poco movimentato quello di oggi a Palazzo Mosti al comune di Benevento lo scontro si è consumato sulle piste ciclabili seppur completamente in accordo sull'argomento e sul sostegno ad una politica di mobilità sostenibile infatti maggioranza e opposizione si sono fronteggiate su una proposta dell'amministrazione Mastella che conteneva errori procedurali ed imputazione della spesa dopo una lunga discussione il consiglio comunale ha comunque approvato con 19 voti favorevoli e 9 contrari la delibera relativa alle piste ciclabili una proposta che per essere votata ha necessitato dell'integrazione di un emendamento presentato dall'assessore alla mobilità felicita del Cogliano con la realizzazione di nuovi tratti che si raccordano con quelli esistenti concorsie dedicate ad attraversamenti protetti e la definizione di tratti già considerati di fatto come piste ciclabili e di partecipare a bandi e procedure concertative di sicurezza stradale e mobilità sostenibile come atto preliminare la delibera ha poi anche incaricato il dirigente del settore gestione traffico e mobilità e il RUP di predisporre le attività conseguenziali per l'attuazione del deliberato immediate le reazioni dell'opposizione continua la sequela di atti deliberativi incompetenti nonché ininfluenti nonché fantasma prodotti dall'amministrazione Mastella attaccato Fausto Pepe nel consiglio comunale infatti abbiamo assistito all'ennesima ambiziosa delibera proposta dall'amministrazione Mastella non utile ma un mero il laconico atto di indirizzo incompetenza e pessimo raccordo tra parte tecnica e parte politica hanno prodotto un pastrocchio attaccano invece così i consiglieri del Movimento 5 Stelle Mariana Faresa e Nicola Sguera dal palco di Prato La Serra in provincia di Avellino il cantautore Gigi D'Alessio ha chiarito le polemiche del suo casce d'oro il comune non ha cacciato un euro sono gli sponsor che hanno contribuito al concerto ma è pronta la replica del gruppo noi siamo Prato La Serra che con carte alla mano smentisce il cantautore napoletano vediamo si è letto in questi giorni 80.000 euro casce d'oro per Gigi D'Alessio non è assolutamente vero parole al miele come recita una sua canzone Gigi D'Alessio ieri sera dal palco di Prato La Serra ha rispedito al mittente le accuse sul suo casce d'oro rifaccio subito due conti vi dico che il comune non ha tirato fuori un euro questi soldi sono stati offerti da 42 sponsor ed è pronta la replica del gruppo non siamo Prato La Serra che con carte alla mano hanno smentito il cantautore napoletano che dal palco ha elogiato il sindaco per il coraggio di aver affrontato le polemiche innanzitutto il gruppo parla di 90.000 euro il contratto sottoscritto con la Pro Music Italia monterebbe 85.000 euro ai quali va aggiunto il costo di 60 steward 2.700 euro e diritti SIAE 3.243 euro di tale spesa si apprende che 32.600 euro sono stati versati con assegne bonifici direttamente alla Pro Music ma l'attenzione del gruppo è sui restanti circa 60.000 euro che sono stati liquidati con imputazione al bilancio comunale lasciando intendere che la metà 30.000 euro saranno poi recuperati presso il comune di Lapio a titolo di rendicondazione per il progetto Fiano Love Festival il gruppo quindi attende risposte dall'amministrazione comunale lancia un messaggio a Gigi D'Alessio concordiamo sul fatto che uno canta e 400 magnano ma aggiungiamo che i cittadini di Pratola Serra pagano e dal 7 al 10 settembre la 33esima edizione del Tufo Greco Festival non una semplice sagra ma un articolato appuntamento con l'enologia il grande vino bianco irpino diventa protagonista assoluto di uno degli eventi più attesi in Campania da giovedì 7 a domenica 10 settembre il centro storico di Tufo in provincia di Avellino celebrerà la sua denominazione greco di Tufo DOP tra le più rappresentative a livello nazionale e tra le più apprezzate sui mercati internazionali in occasione della 33esima edizione del Tufo Greco Festival l'evento promosso dal comune di Tufo e finanziato dalla regione Campania si svilupperà in 4 giorni di degustazioni laboratori musica spettacoli visite in cantina teatro itinerante storytelling e wine tracking un appuntamento con l'energia ma un appuntamento di promozione del nostro territorio o di promozione delle eccellenze vitivinicole che abbiamo a Tufo sarà un'occasione veramente importante che dovrà avere un risvolto a livello regionale con questa edizione del Greco Festival abbiamo voluto ingranare una marcia in più abbiamo voluto proprio allontanarci da quel concetto di sagra per farne un evento culturale il vino come elemento culturale di un territorio con la gastronomia quindi diciamo un livello più sofisticato con spettacoli teatrali musicali degustazioni più mirate e diciamo un livello culturale più elevato il sabato principalmente abbiamo introdotto questa novità ci saranno degli stornellatori romani che con un altro gruppo di stornelli diciamo irpini fatti da Arianova l'associazione di Montella creeranno una sorta di botta e risposta a colpi di stornelli diciamo e quindi questa è la novità principale insomma ed era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito vi lascio alle previsioni meteo grazie a tutti Grazie a tutti.